Martedì 3 maggio 2022, buongiorno e ben ritornati alla Rassegna Stampa che ritorna insieme ai Quotidiani di Nicola. Ieri non ci sono stati e quindi non c'è stata nemmeno la Rassegna Stampa. Partiamo come sempre dal calcio giocato perché vedete in alto nella prima pagina della Gazzetta dello Sport il box con il volto grintoso di Davide Nicola per quel che riguarda il pareggio ieri sera della Salernitana sul campo dell'Atalanta, è finita 1-1, Salernitana che giovedì recupererà una partita, l'ultima partita che manca per riallineare tutta la classifica contro un Venezia che sembra ormai condannato alla Serie B dove se vincere riuscirebbe a portarsi in una posizione di vantaggio rispetto al Cagliari che affronterà nel prossimo weekend. Cagliari che ha esonerato Mazzari, via Mazzari il Cagliari va ad Agostini che proviene da Giovanili, ex calciatore e terratore del Cagliari, decisione dunque a tre giornate dalla fine, decisione difficile per cercare di evitare la retrocessione. Questa è la parte alta della Gazzetta dello Sport. Al centro invece tengono banco due rinnovi, vedete a sinistra Leao, Leao Sheikko, il tesoro del Milan è pronto a rinnovo, si dice con gli arabi che stanno per diventare i nuovi proprietari, Leao sarà al centro del progetto futuro, verranno rifiutate le offerte del Paris Saint Germain ad esempio e poi si fa un approfondimento sul valore della rosa e anche sul miglioramento della rosa grazie al lavoro di Pioli, grazie al lavoro dei ragazzi. La rosa rossa nera costa 175 milioni, 2,60 la nera azzurra, il titoletto vedete un primato al risparmio. A destra invece c'è la foto di Lautaro Martinez, l'Inter a un piano, fare cassa vendendo Pinamonti e Satriano, contratto invece per quel che riguarda il rinnovo di Perisic serve uno sconto a proposito di Pinamonti che gioca nell'Empoli, l'Empoli è salvo matematicamente con il pareggio ieri della Salernitana e venerdì affronterà l'Inter a proposito di Pinamonti e delle sue parole eccetera eccetera eccetera. Il Marcello Lippi, il titolo lo vince Pioli, i miei Oscar vanno a Tonali e a Tudor, a destra un po' di mercato, Allegri vuole Mininkovic-Savic, obiettivo di mercato, la Lazio chiede 70 milioni, ci sono state delle voci in questi giorni relative alla gente che avrebbe detto che Mininkovic-Savic vuole andare al Manchester United, poi smentite eccetera eccetera. La Juve ci prova, sono ormai diverse stagioni che il centrocampista serbo sembra promesso sposo alla Juve, poi la cosa non si è ancora concretizzata. Buonissime notizie per Sinisa Mijelovic, lascia l'ospedale, finalmente si ricomincia il tecnico del Bologna subito in panchina, questo si domanda dalla Gazzetta dello Sport e noi naturalmente non possiamo che augurarcelo. Per il grande Sinisa al centro l'intervista a Ranieri, Claudio Ranieri, ma che Leicester tifo Roma con Mu si vince, Roma che giovedì giocherà il ritorno di Conference Dig della semifinale per quello che riguarda la gara con il Leicester all'andata 1-1. A destra Carlo Ancelotti, missione real, col City possiamo farcela, Champions, questa sera la prima semifinale di ritorno, quella tra Viglia e Reale e Liverpool, si parte dal 2-0 per la squadra di Klopp all'andata, ma Ancelotti ha un piano e questo piano viene mostrato sulla prima pagina di AS. Ecco qua la foto di Carlo Ancelotti, che vedete qua ci sono i 5 punti per cercare la rimonta, l'andata finì con uno spettacolare, martedì scorso ricorderete uno spettacolare 4-3 e domani sera naturalmente tutti ci aspettiamo lo stesso tipo di spettacolo per Carlo Ancelotti, che nel weekend ha vinto la Liga con il Real Madrid, il primo allenatore a vincere 5 campionati diversi e quindi grande, grandissimo Carletto. Corriere dello Sport, arbitri e VAR un altro disastro, il caso del gol di Acerbi in fuorigioco non sanzionato in Spezia Lazio, Pairetto e Nascara sono stati sospesi fino alla fine del campionato, scintille tra Murigno e Lotito, il direttore di gara ha ripreso gioco prima che il collega della Maviola verificasse l'azione, insomma, i soliti disastri dell'apparato arbitrario nostrano che tra arbitri non sempre all'altezza e utilizzo della tecnologia in maniera scriteriata hanno generato una confusione, poi vedremo anche la prima pagina del quotidiano sportivo che c'entra proprio questa cosa. Nel frattempo in alto vedete Leao e Perisic show lo scudetto di corsa, la volata di Milan Inter ha due protagonisti, il portoghese decisivo con la Fiorentina dice momento fantastico, il croato straripante anche Udine, avanti tutta per il rinnovo. Al centro vedete Missione Salvezza, 1-1 con la Dea, giovedì il Venezia Salernitana un pari per sognare, era andata anche in vantaggio, poi c'è stato il pareggio di Passalic, Cagliari Shock via Mazzarri promosso Agostini dai Baby, mosse disperate, un po' come quella del Venezia che ha esonerato Zanetti, adesso salta anche Mazzarri e vedremo, visto che poi il Cagliari potrebbe in un certo senso essere anche arbitro dello scudetto perché affronterà l'Inter fra due partite. Klopp per la finale poi tocca a Recarlo, qui la foto non si vede benissimo ma c'è insomma una foto che ormai sui social in questi giorni sta spopolando con Ancelotti circondato dai suoi ragazzi con il Sigaro dopo la vittoria della Liga, Sinisa sorrida, è a casa, il tecnico lascia l'ospedale, già domenica vuole andare in panchina con il suo Bologna, naturalmente tutti noi ci aspettiamo di rivederlo in campo. A proposito di arbitri, vi dicevo quotidiano sportivo, al centro vedete mette Disastro Var, tutto da rifare, clamoroso errore sul fuorigioco, unica parte che funzionava, ormai è una guerra aperta tra gli arbitri, il Var, il sistema, gli errori e tutto quanto. Insomma dobbiamo dire che molte partite sono state condizionate da questo, noi i tifosi del Milan lo sappiamo benissimo ma non siamo i soli a essere stati danneggiati e insomma qui va rivisto davvero tutto, vanno riviste a monte le regole che devono essere precise, che devono essere definite, forse devono essere anche, se posso permettermi, più semplici per quel che riguarda poi l'interpretazione, per quel che riguarda poi l'applicazione, in ogni caso se ne riparerà ancora. Pugno duro della UEFA a destra, vedete fuori i club russi dalle coppe dal prossimo anno. A sinistra, in basso a sinistra insulti, offese, foglia social, controvenuti, la fidanzata, il giocatore non ci sto, sono state portate delle frasi veramente imbarazzanti nei confronti della fidanzata del terzino della Fiorentina ma insomma sappiamo benissimo tutti noi che i social sono popolati da persone, come dire, con dubbio e facoltà intellettive. Ecco, il sorriso di Mihailovic, vedete, ha lasciato l'ospedale, la bella notizia, questa è veramente una bella notizia. Chiudiamo con la prima pagina di Tutto Sport, anche se insomma diciamo che è quanto meno particolare. In ogni caso, viva Miretti, dal vivaio al debutto, a tempo pieno alla Juve andiamo alla scoperta del giovanissimo talento, insomma questa diciamo poteva essere anche una notizia principale, ieri ci fossero stati i giornali, visto che insomma nelle versioni online dei giornali sportivi si è dato tantissimo risalto a questo centrocampista, la speranza nasce dalla pazienza, c'è questo editoriale, ovviamente tutti noi speriamo per la nazionale che magari possa essere nato un giocatore capace di trascinarci ai mondiali del 2026, si fa naturalmente per ridere in alto Belotti, tripletta nell'ultimo weekend, ora o mai più, la tripletta di Empoli sul passo a Graziani tra i bomber Granata e insomma i tifosi del Toro sognano il rinnovo, Belotti è in scadenza. Arbitri, l'ennesimo pasticcio a destra, vedete Mavar, insomma si continua a parlare di queste polemiche, invece Leao fra Scudetto e Premier, ma Invest Corp prova a blindarlo, anche qui si parla insomma della Premier League come possibile destinazione, qualcuno parla molto del Paris Saint Germain, la mia idea è che Leao resterà al Milan e poi a sinistra vedete l'affetto dei tifosi giuventini farà guarire papà Stefano Parla, il figlio di Stefano Tacconi che insomma è ricoverato in ospedale da diversi giorni, l'augurio ovviamente di un grande boccalupo per l'ex portiere di Avellino e Juventus e anche secondo di Walter Zenga in nazionale. Questa era la rassegna stampa di oggi, io vi auguro una buona giornata.